Sieto il giorno 1 Riavvolgiamo il nastro ragazzi Abby Uh Tranquilla Ti senti bene? Sì È solo... Che succede? Ti ho cercata dappertutto Ci hanno convocati Isaac ci vuole al fronte Cosa? Sul serio? Temo di sì Muoviamoci Partiamo subito? Certo Vamonos Ok Cazzo il collo Grazie per la stanza ieri notte Di niente Chi era stavolta? La cuoca? Che muscoli che c'ha Madonna ragazzi La palestra È tutto organizzato qui Però è ossessionata dal lavoro Ha parlato due ore di una tempesta E non lo so Ne è valsa la pena? Oh Assolutamente Adesso si chiude un lungo capitolo di Ellie Dovresti Non troverai Un bel po' Non lo useremo Ah c'è anche la scuola Non confermo Né smentisco Perché non si vedono con Ellie Tutte queste cose? Io devo parlare con mio padre Puoi mangiarmi? Sì ok Prendimi qualcosa Compiccante Prendo quello che voglio Che stronza Ok ce la prende gli Il panino? Felice di vederti Non per me Oh merda Jordan Non ti ho visto Tu vieni con noi al Serevena Vogliono me e Manny all'avamposto Che andate a fare al Serevena? Ubriacarci L'hotel e la scuola Recuperiamo provviste E riportiamo tutti alla base Sul serio? Sì No per finta Siamo costretti a fuggire Non si può ancora dire Almeno lì ha puoi rientrare prima Dallo studio tv Esatto Sì Devo andare Lotta per sopravvivere O per morire in fretta Ma Non è necessario ecco Ma siamo così desiderati oggi? Ehi salve Ah Ah beh Tutto bene? Alla grande Potresti convincerlo a togliere questo affare? Ah Ci ho provato Sto bene T'hai visto horrible Eh 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 Bueno Dobbiamo andare via Pensate voi a lui Va bene Ci provo Alla fine non si è preso il panino Negozio di vestiti Ehi Hai qualcuna di quelle saponette buone? Quelli alpini? No mi spiace Ma so che qui accanto aspettano un carico Magari riprova domani Peccato Beh grazie Beh sapone e sciampi Non sarebbero proprio inutili Vista la polizia che c'è fuori Sempre all'inizio di Watch Dogs Quando sei nello stadio E Fine dell'ottavo si chiamava la missione Di nuovo Ok Poi della No della stufas Che stai facendo? Poi Watch Dogs avremo modo di assaporarlo per bene Piano piano Scusami Stiamo andando al fronte Beh almeno non c'è VLF da affrontare Credo Perché ne hai presi tre? Ridanne uno Ehi non preoccuparti Mel verrà con noi Mel Gibson Dov'è il tuo zaino? In camera? Perché mi stai facendo questo? Perché vi voglio bene E sono stanco di queste cazze Lei sa che vengo anch'io? Sicuro Ed è d'accordo? Sì Perché il tuo si sembra un no? È solo la cellula Senti non fare la paranoica Secondo me ti... Madonna buono voglio Voglio subito Che palle Ci saremo scambiate due parole dopo Jackson Dovrei fare finta che non sia successo niente Certo che no Dovete parlare e chiarirvi Anche lei voleva vendicarsi su Joel Ma lei non è come noi Non aveva mai visto niente del genere Ammazza Iene di continuo Con Joel è stato diverso Ricorda Noi siamo soldati Lei è un medico Abby Siamo una famiglia Fallo per me Ok? Ci proverò Non chiedo altro Bellissimo sto capitolo però Io credo che qua si riparta anche da capo un po' con le armi Potenziamenti vari Credo proprio Fai la brava Crepa Beh Non è una camera È uno skybox questo Palese è uno skybox Cioè anch'io vorrei una camera così sinceramente Dentro San Siro Dentro San Siro Ci penso più tardi Eh molte volte lo dico anch'io sai Scienziata Brava brava La tua prima e mezzo Nascondi la vai Toc toc Sei pronta? Sì quasi Ciao Ciao Non sei esonerata dal servizio? Non proprio Devi solo fare domanda Praticamente non abbiamo già visto la loro morte È fantastico E Owen è d'accordo Un shit Incredible Andiamo a prendere Alice Ehi Meno la città Questo è il Century Link Field Che adesso si chiama City of Light Stadium Una cosa così Stadium of Light E ci ho fatto una serie dentro questo stadio Quando facevamo la squadra Adidas All Stars Una serie che a dire la verità Abbiamo iniziato a FIFA 16 e non è neanche data poi così male negli anni Peggio Ammenso che la devo anche un po' riprendere Comunque è stato dei Seattle Sounders Quelli grigi e verdi Sì Mi piace È piena di famiglie giovani Siate emozionati Per il bambino Vedere tutti quei ragazzini Sì Mi sto preparando Tra pianti e strille Owen sarà impazzito Non l'ha ancora Donna com'è grande È fuori in missione con Dan Grazie Dan Cavolo Povero lui Già Tutti i canacci Del VLF E che devo fa? Ma che amore che è Io sono per i gatti Però è un amorino Andiamo in camion? Andiamo in camion Ciao Orsi Ok Visto che hai chiesto per favore Ho già ottenuto una palla da tennis Bellissimo Ancora trova? Ah vieni qui Prendila Godo Fanculo Almeno Si finisce sta merda qui Ebbene sì Sborcazione Che ci fai in città? Cosa verai? Viva isolata per quel lavoro Guarda che lei ti ha Addio stadio Stato bello così Se non altro non deve combattere Ehi là Ci sembra un vantaggio? Io starei volentieri in città A curare le famiglie Senza guerra non si vive New Jersey? Ok caso Ehi Pat Dammi il solito Gli ordini Grazie Che camion ci sono? Prendi L'S24 Guido io Tu firma Maschilismo proprio Applicato all'ennesima potenza Lotta per sopravvivere O per morire in fretta Ci scaldiamo un attimo? Che dici? Ti va una sfida? Ti perde pulisce casa Ah Vuoi rischiare? Più punti con un caricatore? Ci sto cabron Va bene Magari la luce Niente Ho capito Maglia Tutti sparati nella testa Fanculo Amo le lenzuola ben piegate Accidenti Non ho mai detto Quando avrei pulito Impara a perdere Ma che impara a perdere Sti cazzi? Ok Va bene così E poi abbiamo munizioni Per fare quello che ci pare fuori Anzi Mi sarò anche già fatte fuori un bel po' Forza andiamo Mi servono altre munizioni Sì sì La mia topolona Mi sei mancata Elis sta davanti Ma all'enzi Le serve un po' d'aria Così potete parlare Come se Si parte Dal Lumenfield Non mi ricordo Come si chiama lo stadio Nuovo nome Non me lo ricordo ragazzi De nada Ovviamente i binari dismessi Qua mi sa molto di hanciarti Ed è palese Ma c'è io Ah stupendo Non è un problema No Un problema Ho accettato L'intera richiesta Tu e uno Venti Ehi Manny Dove vai? Al 2 Camion S24 Diretto al 2 Ma quando avete intenzione Di far finire Questo patimento Ditemelo Che volevi dire Che vorrei fare qualcosa Non lo vedo dopo due settimane Non fa Che accettare Nuovi incarichi Gazzelle Con te ha parlato Ti ha detto Si sono gazzelle Boh Lo sapevo Ma chi sono? Serafiti? Chi cazzo? Si sono i serafiti Preso Preso Bastardi Bello lì Che bello L'arma automatica Ah se tipo Gli spara il cavallo Così non li posso prendere Però Godo Merdaccia E codine uno no? No però è bello così Devo dire è bellissimo Oh cazzo Vabbè A me non ci siamo portati lontano Da loro Credo Tutto ok? Sì Viene del cazzo Quanto manco È davanti Parecchio Sono troppo esposti Forza Edriamo Grazie a tutti Grazie a tutti